Il lavoro duro è stato fatto negli anni precedenti, adesso Innova ha consolidato un bilancio molto importante e ha un'acquisizione di lavori che poi dovranno essere fatti nei prossimi anni molto importante. Sì, la previsione era osea, speriamo di poter riuscire a riempire tutte le aspettative che in questo momento sta dando il mercato. Abbiamo 750 imprese associate, non sono sufficienti per poter fare tutto quello che oggi ci viene proposto e quindi dobbiamo lavorare in un senso e nell'altro. Innova anche in passato è sempre stata una parte operativa fondamentale per il Comune di Bologna perché rappresenta tutte quelle piccole e medie imprese, quegli artigiani, quegli elettricisti, quei muratori, quei piastrellisti, quei cartongessisti, tutta quella gente che fa davvero la manutenzione, noi non la subappaltiamo, noi la facciamo. È chiaro che si parte da quello che si conosce meglio che è la manutenzione del Comune, è chiaro che fare in cinque anni quello che probabilmente non è stato fatto nei 30 precedenti è una bellissima sfida, però insomma è anche molto dura, quindi cerchiamo di fare tutto il possibile per poter fare il meglio. L'impresa del territorio in questo momento abbiamo tante opere, tanti cantieri e a noi fa piacere che questo crei lavoro e opportunità, significa essere competitivi anche da parte loro, ma noi siamo fiduciosi. Sicuramente i bolognesi stanno cominciando a vedere tanti cantieri, sono frutto di tanti investimenti, di tante risorse conquistate, per le imprese del territorio significa lavoro, anche qualche disagio ovviamente per chi vive a Bologna, ma la vogliamo fare più bella, più grande e più nuova. Non dobbiamo avere paura di crescere perché la crescita è anche consolidamento del presente per il futuro, noi distribuiamo lavoro, tanto lavoro e oggi abbiamo proposto anche di costruire una fondazione all'interno del nostro consorzio proprio per rimarcare questo elemento di responsabilità sociale, la possibilità di redistribuire sul territorio nostro, ma sui territori che incontreremo perché ci stiamo allargando anche a tanti altri territori, ad altre realtà, per redistribuire valore aggiunto, qualità delle relazioni e possibilità di interventi anche nel sociale. Credo che abbiano dimostrato davvero come l'Unione fa la forza, mi permetto di dire questo, ovviamente con grandi imprenditori, grande visione, possibilità di avere una struttura che mette insieme delle operatività, anche delle intelligenze molto significative, questo fa lavorare le imprese del Bolognese in particolare con grande dinamicità e grande anche fatturato, abbiamo visto dei numeri davvero straordinari, il 9 è crescita molto nel tempo, si è consolidata, si fa rispettare sia per la qualità del lavoro che offre sia per la qualità degli associati, quindi noi siamo particolarmente contenti di essere una banca di riferimento per quanto riguarda il consorzio.